Ama suonare la chitarra, perché si sa, con la musica si riesce ad esprimere quello che con le parole a volte sarebbe troppo difficile. Soprattutto quando si deve parlare di famiglie e relazioni tra le persone. Se non si tocca la corda giusta, possono essere guai. In particolare, quando si ha a che fare con un tema delicato come l'età. Salvatore Sciascia, professore di economia aziendale e co-direttore di Family Business Lab, Università Cattaneo, Liuk. Grazie. Bene. Una recente analisi ci ha rivelato che l'Italia si trova sul podio, se vogliamo, dei paesi in cui gli amministratori delegati, quantomeno nel contesto delle società quotate, arrivano al loro ruolo più tardi, un'età media di 52 anni, e sono mediamente più anziani, età media 60 anni. Una situazione ritengo piuttosto conosciuta dall'opinione pubblica, ma ogni qualvolta viene pubblicato un ranking, si accendono i riflettori su un fenomeno, e il fenomeno in questione è il fenomeno dell'età dei leader, o meglio, della loro anzianità. Nel contesto delle imprese familiari, recentemente l'osservatorio AUB, IDAF Unicredit Bocconi, nella sua ultima edizione ci ha rivelato che la percentuale delle aziende guidate da leader over 70 è pari al 27%, una percentuale cospicua, significativa. C'è dunque da chiedersi se la situazione italiana è una situazione fisiologica o no, e quindi più in generale se l'anzianità dei leader è un valore o no e, diciamo, fino a che punto? Beh, diciamo che in termini generali l'anzianità comporta delle ombre e delle luci. Qui vedete alcune delle ombre, la rigidità, l'eccessiva convinzione nelle proprie idee, nelle proprie posizioni, o magari le difficoltà di adattamento alle nuove tecnologie, soprattutto quelle digitali, o il distacco che si crea, che è sempre più grande con le nuove generazioni. Per non parlare del fatto che un leader anziano, molto più probabilmente di un leader più giovane, può incorrere in problemi di salute, acciacchi più o meno gravi che ti tengono lontano dal timone dell'azienda o ti impediscono di navigare nel migliore dei modi. E un leader più anziano è anche un leader più radicato nelle dinamiche familiari, dinamiche che possono in qualche modo interferire poi con la razionalità delle scelte aziendali. Però a parte queste ombre è chiaro che l'anzianità comporta anche delle luci. A cominciare dall'esperienza, i leader più anziani sono più esperti, sono leader che conferiscono una certa stabilità alle organizzazioni, sono leader che magari negli anni hanno costruito e mantenuto delle ottime relazioni esterne. Il leader anziano si fa custode della tradizione, garante della continuità, è un leader attorno al quale è più probabile costruire grande fiducia e coesione nell'impresa e nella famiglia. Ma visto che abbiamo ombre e luci, quali delle due prevalgono? Prevalgono le luci? Le ombre? si equivalgono? Cosa ci dicono i dati? Beh, i dati dell'osservatorio AUB, nuovamente nella loro ultima edizione, ci danno un messaggio chiaro, forte e chiaro. La performance aziendale, tanto in termini di crescita del fatturato quanto in termini di redditività operativa, è influenzata dall'età. Indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa, dal settore di appartenenza e dall'età dell'azienda, infatti, si riscontra che le imprese guidate dai leader over 70 soffrono, mentre le imprese guidate dai leader under 50 sembrano performare meglio. E non solo, è stata anche fatta un'analisi dinamica delle performance di queste imprese, come si accendava prima, le imprese che hanno cambiato il loro leader e hanno sostituito un leader over 70 con un leader più giovane, hanno riscontrato negli anni successivi al cambiamento delle performance superiori alla media, tanto in termini di crescita quanto in termini di redditività. E dunque la situazione italiana non può definirsi fisiologica. cosa possono fare le imprese? Io credo che possano fare quattro cose. Possono definire delle regole, ad esempio, cioè inserire in statuto dei limiti di età per l'accesso a posizioni di leadership. Possono chiaramente in qualche modo pianificare il passaggio di consegne, in modo tale che non sia né improvviso né improvvisato. E in terzo luogo possono prevedere nella parte finale della carriera del leader un periodo piuttosto lungo di co-leadership, che è un modello di guida dell'azienda che in questi anni post-covid sembra essere tutto sommato uno dei più efficienti. Ma prima ancora di arrivare agli anni finali, ecco, della carriera del leader, è opportuno costruire all'interno delle organizzazioni, diciamo, degli ambienti inclusivi anche sotto il profilo generazionale. Ossia prevedere dei programmi di mentorship con cui i leader più anziani possono guidare i più giovani e anche magari dei meccanismi organizzativi come i comitati Ombra, attraverso i quali i giovani talenti possono essere consultati dai leader più anziani. Finora mi sono soffermato sul tema dell'età dei leader e quindi dell'importanza del trasferimento tempestivo della leadership nelle aziende familiari. Ma il tema può essere esteso anche al piano della ownership, ossia della proprietà. Un piano distinto da quello della leadership, chiaramente, ma un piano da prendere in considerazione. Noi sappiamo che la proprietà, nella maggior parte dei casi, viene trasferita dopo la leadership, e comunque non prima. E quindi, in altre parole, tutto ciò avviene tipicamente in un'età forse troppo avanzata, se non addirittura alla morte del proprietario. E io credo che pertanto si vada incontro a grandi rischi, perché il trasferimento anche della proprietà avviene evidentemente attraverso donazioni, successioni testamentarie, conferimenti, cessioni, che vengono effettuati probabilmente troppo tardi, quando le ombre dell'anzianità si fanno più cupe, più intense. E allora credo che sia un grande atto di responsabilità, quello di programmare per tempo non solo il passaggio della leadership, ma anche il passaggio della proprietà. E ci sono strumenti come il patto di famiglia che lo consentono. Questo ovviamente nel caso in cui si possa e si intenda trasferire la proprietà all'interno della cerchia familiare. Ma in assenza di eredi motivati e capaci, io credo che sia altrettanto responsabile programmare per tempo anche una eventuale cessione dell'azienda di famiglia all'esterno, con soluzioni magari più di continuità, come ad esempio il trasferimento a manager non familiari, oppure a soci di minoranza, oppure con soluzioni più di maggiore discontinuità, come ad esempio la cessione ad altre imprese o a fondi. La responsabilità, e qui concludo, a cui mi riferisco, è una responsabilità innanzitutto nei confronti alla famiglia, perché programmare per tempo il passaggio di leadership e ownership consente di mantenere la coesione familiare, ma consente anche di mantenere il valore dell'impresa, il valore economico dell'impresa. Ed è un atto di responsabilità, io credo, anche per tutti gli altri stakeholder, perché ritengo che anche le imprese familiari, come tutte le imprese, rappresentino un bene comune, un bene che trascende gli interessi delle singole persone e delle famiglie che le controllano. Grazie.